A Forza Italia hanno fame e tagliano 20 interventi in scaletta al Consiglio Nazionale. Una proposta. Erano iscritti a parlare il Ministro Casellati, il Ministro Pichetto Frattin, il Ministro Bernini, il Ministro Zangrillo, il Vice Presidente della Camera Mura, il Presidente del Senato Casparri, il Presidente della Regione Sicilia Schifani, il Presidente della Regione Piemonte Cilio, il Presidente della Regione Calabria Occiuto, il Presidente della Regione Vasi Catabardi, il Presidente della Regione Morisolo Berti, il responsabile Dipartimenti Cattaneo, il responsabile nazionale Zuro Dona Polidori, il responsabile nazionale Giovanni Benigni, il responsabile nazionale Signore Spianetta, il Presidente Provinciale di Terni, Pernalta, il Sindaco di Ancona. La proposta è la seguente. Se tutte le persone che dovevano intervenire sono d'accordo, chiuderemmo qui la giornata con questo. E direi che su questo intervento, forse super apprezzato, potete accomodarvi al pranzo. Siete tutti invitati al pranzo che si rivolge nella sala a fianco. Mi sono permesso di allestire una piccola colazione nella sala del Consiglio. Hai fatto bene.